50 esemplari vivi di uccelli padda o fringuello di Giave, 17 esemplari di parrocchetto Monaco, sono stati trovati in alcune gabbie in un fondo rurale a Monte Corice, a fare la scoperta ai militari del nucleo carabinieri CITES di Salerno, coadiuvati dai volontari della Guardia Rurale Ausiliaria, sezione provinciale di Salerno, e Nogra Salerno, guardie ecozofile. Il sequestro è stato reso necessario in quanto gli uccelli risultavano privi e la documentazione necessaria per la detenzione, esposizione e vendita a scopo di lucro.